Auto in fiamme sul Vesuvio. L'incendio è divampato ieri sera in via Contrada Montedoro, al confine tra Ercolano e Torre del Greco. Il veicolo ha preso fuoco fuori a un agriturismo, ma non sono chiare le cause, forse un malfunzionamento. Il fumo è arrivato fino alle case circostanti. Fortunatamente l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, allertati proprio dai residenti, ha impedito che le fiamme arrivassero ad espandersi. L'incendio è infatti divampato in una strada stretta a corsia singola e circondata da arbusti ed erbacce. Il rischio era proprio che il fuoco riuscisse ad attecchire su questi tratti di verde, arrivando fino alle case e alle strutture. Tanta paura, quindi, ma nessun ferito. È il terzo caso di automobili incendiate nella nostra area nel giro di un mese. Ricordiamo che una vettura era andata a fuoco all'imbocco del casello autostradale di Torre del Greco ed un'altra mentre era parcheggiata in zona viali. In tutti i casi le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, minacciando l'intera area circostante.